Ciao a tutti ragazzi, sono Sgargarro Vidal, bentornati sul mio canale per un'altra parte di Shadow of the Tomb Raider e siamo dove abbiamo lasciato l'ultima volta, a Lara Bambina, sì esatto, perché praticamente ho tagliato l'ultimo video ho detto registra ancora, sto direttamente qua così ci evitiamo tutto il caricamento che potrei tagliare tranquillamente ma quello faccio sorbire anche voi per farvi capire quello che appartisco anche io detto ciò, siamo tornati in questo flashback di Lara, dobbiamo usare Lara non so, non penso ci sia roba da raccogliere, suppongo, a meno che qualcosa di segreto per finali alternativi quindi andiamo un pochettino, vediamo, ha l'istinto di sopravvivenza anche qua e, uh, ci sono cose da prendere regina bianca, una pedina, ah eh, ci sono le cose da raccogliere in giro per la percentuale a fine gioco là c'è qualcosa, e non ci posso andare io e che casetta che c'aveva comunque Laurina, eh l'aretta volevo dire, non Laurina c'è tutto il suo parco giochi, c'aveva, guarda, guarda altro che rinchiudere il maggiordomo nel, nel coso guarda, c'era di tutto commenta rampiti qua, Lara guarda che ci fosse un modo per farla morire, tipo ah, là c'è qualcosa mi pare che ci sia qualcosa, va qua o forse no andiamo avanti, va guarda come, come striscia per terra da notare comunque la mia, ah, guarda vediamo la coda anche qua la casa comunque direi che è abbastanza bella noterà addirittura il cielo, come si differenzia le mogolose beh, si sono evoluti bene i videogiochi mi guarda come qua c'è ok andiamo in casa, Lara andiamo a fare i compiti da Tomb Raider siamo passati a compiti simulator ah, mi posso anche infilare qua dentro dai, su andiamo da papà c'è, vorrei andare da papà dov'è l'entrata oh ah, ok, là mi piace là si fa da si fa da storyteller da sola voglio fare uno spedio guarda vedere se muore e si buttava troppo in alto no una baby Lara vai, su Lara espratici in pavida vai vai no, devo dovrò ammazzarmi se può morire oh, non si può già non mi posso lasciare andare taggati alla cosa di di Crossley si mica, comunque la ragazzina qua si arrampica veramente un meraviglio che da grande va a fare tutte quelle cose là piccione, vai via al minimo vorrei a beccarla indietro non lo sento ah, c'era un po' di fifo anche lei adesso babba che non sei altro eh, devi saltare eh, devi saltare ah no vai, sali sali non posso no lo provo a saltare verso la mia morte non ho potuto farlo voglio oh, Nathan Jones da piccolo poteva morire quando facevi la sua parte da ragazzino ohia trovo l'ingresso all'automa previda si 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 ten below. She will have to be careful. Why do I do these stupid things? Shit! Ma veramente? Sei piombata qua davanti Sei piombata Che culo puoi avere? Ok andiamo a cercare il maggiordomo E andiamo a rinchiuderlo nel frigorifero Puoi esplorare un attimino Non c'è niente Noi voglio fare degli enemy qua dentro Perché impazzisco Noi voglio fare dei bus Ok andiamo a cercare la mia Prova la regina bianca Aspetta com'è che era? 30 Nord e 90 Est, giusto? Ah, ok, 30 e 90 devo cercare Che numero è lì? Eh, qua è 30 E suppongo che l'altra parte sarà qua 30 e 90 devo cercare, giusto? Come anche di qua? Scusa, come l'ho fatto lì? Non è così, scusa? 30... Ah no, 30 South è quello Andiamo a cercare 30 N Giusto? Eh 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 30 N E 90 Est, quello è West se non sbaglio Quindi andiamo a cercare 150 N, 105 N, 120 N, 105 N E ora? E ora? Aha! Oh no, cosa devo fare qua? Anche muovere i pezzi? Ma seriamente? Come devo muovere sti pezzi? Tant'ora imbitiamoci qua, vediamo cosa c'è Un primis La! Corri Rodina, corri Non ho visto alcuni degli artefatti prima Ecco il segno di Batman che sceltavamo No, non è morta No, non è morta Cosa devo fare? Cosa mi dice di no Aspetta, le devo mettere in ordine probabilmente Ah, devo metterci gli scudi per rimbalzare la luce Aspetta allora Allora, ciccio? Tu vai via qua tipo No Vediamo che ti amo Questo qua intanto proviamoci a portarlo a vedere se rimbalza la luce come penso io Così Questo qua lo spostiamo di qua Dovebbe essere abbastanza easy allora Vai Spingi Perciò che mi chiedo perché tengono una cosa del genere in casa Come l'aiutiamo? Ho fatto Dove essere abbastanza easy Dove essere abbastanza easy Alt Alt No, direi un po' di no Mi serve qualcosa Fammi vedere come sono sti fari qua Sì 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 Se non mi posso rimuovere Direi di no Sì 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 No La mettiamo sul rosso La mettiamo sul rosso Sì Sì Uh Mamma Croft e Papa Croft No, 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 no. pesante i cannot you are always on the verge your obsession is destroying this family obsession i'm upset you're missing your daughter's childhood because you're always in some tomb on the other side of the world why can't you be happy with what you have Ah, dove muore qua? È in Rise, ho fatto un video che vedevamo sta scenetta un po' così Quella è piccola che lo trova morto Ah no, se la spavolava solo Mi perdavo male Piccino, ha fatto un incubo Lara Ah, per forza E devo farmi più forza questa abilità qua, ok No Mi posso? Ah, vantaggi, allerta nemici I nemici pregono più tempo per individuare e identificare Lara come una minaccia Vantaggi gambe, nessuno Però posso fare solamente questi due qua L'avventura della tattica, allerta nemici Gambe, nessuno Ah, uno è Pantone della Verdi Ah, posso fare sia Facciamo Trovata Lara E ok, come faccio a metterli ora? Leggenda risorse Ah, petta, leggenda Non mi interessa, allora Vantaggi nessuno LOL Angel of Darkness Ma veramente posso mettermi questo, volendo? Tomb Raider 2 No, facciamo che ci mettiamo Questo Così e così Perfetto Ma così non è niente Vantaggi gambe, mente silenzione Reduce il rumore prodotto quando corri Rendendoli più difficili da individuare E' idea di mettere questa, allora Così abbiamo sia vantaggi di torso Che vantaggi A Perfetto Abbiamo imparato qualcosa di nuovo Possiamo cambiare i vestiti e far cose diverse Quanta roba da raccogliere subito qua Questo quando è morto non si sa Visto che ne eravamo qui E ho già perso Jonah in tutto ciò No, guarda giù E poi scusa Quanto 3 me ne consumo per volta Porca Eva E guarda Jonah Prima di andare Vado alla raccolta di un po' di roba E poi in realtà dovete nemmeno per in caso ci fossero degli animali Non tanto per raccogliere le piante Visto che le piante le posso vedere con Come si chiama Distinti di sopravvivenza Ecco Perché vedete Tipo qua c'è altra roba che non avevo vista Mi dico dell'altro qua in giro Prima che vado avanti Coraggio Una piantina Quello E una piantina qua E una piantina qua Ora ho tutto Se non sbaglio Di questa zona Scatta la corsa Lara Opla Andiamo Jonah Con la speranza che non massagga un altro Bestia Minda stanno tira E su Ouch Tutto a posto? Aha Dobbiamo sempre stare attenti Guardare ovunque E vabbè Vediamoci un manno Tanto Accogli piantina Vieni Jonah Andiamo Posso spararti A te Jonah No ovviamente no Un game over Potevamo anche farlo No Vai Jonah Toccate ora Dove che agilità? Sarà pure grosso Ma è abbastanza agile Devo andare lì Giusto? Però prima guardo qua Che mi piace di più Mappa d'archivio Abbiamo sblocato la mappetta Qua ci sono tutti i campi base Cosa è questa roba qua? Tomba Murale Documento Mi segna un po' di roba in giro Monolite Questa c'è stava qua Documento Ma non capisco Questa roba che ho trovato O che ho lasciato in giro Qua dentro c'è altro Di importante Direi di no Fuori Qui alla piantina Deporata al alberello Prevedo nemici E quella là Siamo un'arma Che posso far male Ma affatto Non vedervi Deporata Hai capito Giovana Non dovevo andare Dall'altra parte Brutto avvido bastardo Volevo andare a luttare Il tizio che ha ucciso Gioana Facciamo che non lo faccio più Ok 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 non ci sono state distraccate Mendes cosa stiamo cercando qui? qualcosa che muove, qualcosa che non ancora non trovano il relic io vorrei essere il ragazzo che fa non me, perché non? sei un herò io sarò morto più probabilmente, non grazie io continuo a sentire qui per i hostiles andiamo a parlare più di più, ragazzi si, si, si è già depredato questo, direi di si ah, siamo, veramente? si, si, si si, si, si si, si si, si sono sicuro che abbiamo testato la città prima no, non c'è potremmo potremmo ok, potremmo 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 andate 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 oh oh ok pow ok eehm devo andare la Dove sono andati tutti? Dov'è Jonah soprattutto? Perché quel tizio deve scomparire ogni due per tre? Uh munizioni Ho sempre solamente storico schifoso io Ok ho guadagnato un mitragliatore È morto Una botta sola a pistola di mitragliatore mi piace A che se continua a usare largo suppongo 113 munizioni 9.362 tenuta a B45 Nomi in codice Chierichetto È silenziosa quindi Lascio qua qua dentro sicuro stai a vedere Ti manderà avanti Non c'è niente qua dentro veramente Che inutilità Vai avanti allora via Ciao ciao Spunghetti Ma è tutto buio qua dentro Salta Il concilio No il concilio delle gemelle Brucia la barriera E qua Pieno Mi direi le posso fabbricare le frecce Barriere infiammabile Gli oggetti avvolti in tessuto chiaramente Possono essere incendiati Ok Usa per selezionare Questa E tenere premuto R1 Ne posso fare il massimo 4 No non fabbricare le frecce Ormai che ce l'abbiamo qua dietro Ok come Come si Così Ok Con R1 Con R2 si spara normale Con R1 spari le frecce speciali Quindi Com'è che si spara così giusto Prendiamo in un'altra va Siamo a Kuwa Kuwasu Ya ku Ah ok Ah ok Ah ha Tri di cosa? Si Ah, tre birre, ok Non sembra un archeologista tipico Oh, lei è l'archeologista, io sono solo un cuore Sì? Sì Hai provato alcun dei nostri cevicciati? È una specialità Non meno che cresce nella giungla No, non mi chiedi che hai perduto i nostri famosi fischi Ha, ha, ha Jonathan ha trovato l'anima gemella E l'area è la... come si dice La terza ruota O, mexico White Oh, ho visto questo simbolo prima Wow Ci sono alcune ruine a vicino E una piccola rocca con qualcosa come questo Carvedo sui Mi interessa se faccio una guardia? No No Sei il mio avvento Ma ho garantito che non sono i miei E Le mie persone erano Inca E sono orgogliosi di questo Oh, eh, eh Perché non ti... Restare Per un giorno? Sei sicura? Ho promesso di te una giornata Beh, non sarò niente a questo Ha divertito Hai capito, John, non fa il morpione Ok, ragazzi Direi che possiamo concludere Qua l'episodio Mettiamoci Sulla nostra bella Lara Ok, sto facendo sempre più movimentato Mi garba Non sono amante dei flashback del passato Dove ti bisogna giocare da bambini Sono onesto Non mi paga per niente Quei momenti là Spero che non ce ne siano più Me lo auguro Comunque, ragazzi, ciao Ci vi dando mani per continuare Shadow of the Tomb Raider Non so quanto due era ancora Ma, come vi ho detto Finché non l'ho finito Porterò video di questo Mentre in streaming Continuerò a portare Ovviamente Hearthstone Grazie a avermi seguito anche oggi E come vi dico sempre, ragazzi Alla fine del video Ci vediamo domani per un altro video A domani, ragazzi Ciao, ciao Ciao, ciao